Intro Ebbene a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Sono AleGamer97 e quest'oggi siamo qui su un video nuovo e speciale Questo perchè signori siamo tornati finalmente sulle sponsorizzazioni Sapete che io ci tengo moltissimo a sponsorizzarvi Tanto qua c'ho i capelli, uno va da una parte, uno dall'altra Non lo so rega, fa una guerra qua C'ho una guerra attiva nei miei capelli, apposto Ci tengo moltissimo a questo genere di video, quindi alle sponsorizzazioni Questo perchè? Perchè ritengo che dare visibilità a più o meno tutti E' la cosa migliore comunque da fare E anche perchè adesso è difficile comunque emergere sul tubo, quindi su youtube Allora ragazzi, questo qui è assolutamente il mio canale Vi ricordo brevemente come funziona per essere sponsorizzati Bisogna iscriversi al mio canale Lasciare un like, commentare qui sotto con Ag97 sponsorizzami Oppure sono sponsorizzami Dunque basta che comunque scrivete qui sotto sponsorizzami E la cosa principale che appunto vi ho detto prima Condividere questo video ragazzi Perchè la prima cosa principale è condividere il video Quindi like, iscrizione al canale e condividere questo video E iscrivetevi sotto Vabbè alle gamer97 sponsorizzami Così queste qua sono le piccole regole per appunto essere sponsorizzati E in salvo dubbio perchè quest'altro ci abbiamo moltissimi canali Più di 13 mi sembra Quindi in salvo dubbio ho con il primo Il primo è Pokerizan Pokerizan ragazzi 2408 iscritti C'ha Pokémon quindi fa Ah ok, appunto perchè si chiama Pokémon Pokerizan Fa moltissimi video di Pokémon Quindi il suo canale è principalmente basato sui Pokémon Quindi adesso mi raccomando Passateci, iscrivetevi Un saluto a Pokerizan Dopodiché arriviamo con The Titans Players The Titans Players 208 iscritti Ha fatto da poco lo speciale se non sbaglio Si, ha fatto da pochissimo lo speciale 200 iscritti Quindi auguroni, auguroni per questo traguardo E poi non è un traguardo, è un obiettivo Quindi auguroni e guardate qui Allora fa GTA La Road to Division 1 Principalmente fa GTA e poi Road to Division 1 Usa anche Combat Arms Gioca Quindi fa sbagliati video sul suo canale Quindi Anche a lui un saluto dono a The Titans Players E fate come me Andate ad iscrivervi Poi andiamo avanti qui su Symoz Symoz signori Non ci dà le iscrizioni Ok Symoz quindi andate anche da lui signori Passate da lui da Symoz E fa sponsorizzazioni Quindi anche lui sponsorizzazioni Ottimo, 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 ottimo Fa anche lui sponsorizzazioni Gioca moltissimo anche su Black Ops Quindi mi raccomando passate su Symoz ad iscrivervi Quindi un saluto da Symoz E mi raccomando andare ad iscrivervi Andiamo avanti perché qui in avanti c'è Elethor Elethor andiamo a vedere quali video fa Fa un pochino Clash Royale E... Clash of Clans Se non sbaglio è la dovrebbe essere Fa Sim City Building Di costruire la città Quindi anche lui fa svariati generi di video Quindi anche da lui Un saluto da Elethor E mi raccomando andatevi ad iscrivervi Passiamo avanti con Vladi Bomber Rai si vado anche un pochino veloce quest'oggi Perché appunto come dicevo prima Abbiamo moltissimi moltissimi canali quest'oggi E quindi devo un pochino ralla Velocizzare un pochino la situation Andiamo avanti con Vladi Bomber Vladi Bomber E... Ah allora Ancetutto ha fatto un ultimo video L'ultima settimana L'altra settimana ha fatto la bottle flip epica Quindi io vi suggerisco di andarvela a vedere Mi raccomando Ha fatto la nuova intro Fa anche lui Fa diversi... Diversi video Quindi anche lui sbaglia di video Quindi mi raccomando Un saluto da Vladi Bomber Passate a iscrivervi anche da lui Andiamo avanti con Dito95 Che ci mostra i suoi video Andiamo a vedere un pochino cosa fa È andata a Luca Comics Quindi un video Un vlog del Luca Comics Fa moltissimi vlog E anche lui Gira un pochino su svariati giochi Sì anche lui fa svariati giochi Anche lui fa svariati giochi Quindi un bel salutone a Dito95 Mi raccomando passate anche a lui Ad iscrivervi al suo canale Andiamo avanti con Giuseppe Lagati Giuseppe Lagati non so Vediamo un attimino Andiamo a vedere i video caricati E lui carica video diversi Più vlog Sanno più vlog diciamo Quindi passate anche da Giuseppe Lagati Un salutone Giuseppe Andiamo avanti con SuperGamer56 Proviamo la nuova carta Quindi Clash Royale Clash Royale Gioca Dragon Box Xenoverse quello 2 Clash of Clans Quindi anche lui sbaglia di video Soprattutto quelli per telefonino O comunque per PC Quindi un salutone SuperGamer56 Passate al suo canale e iscrivetevi Andiamo avanti con il tutorial Fa video comunque tutti su World Conqueror Quindi tutti su giochi della guerra diciamo Quindi un salutone E mi raccomando passate ad iscrivervi al suo canale Ehm Andiamo avanti con ExtremeGamer Se Gamer fa 3 video Uno è anche a Dio A posto Quindi mi sa che ha lasciato Non si sa Ok comunque Un salutone ExtremeGamer E comunque passateci comunque ad iscrivervi al suo canale Andiamo avanti con la falsità degli youtuber Anche lui fa pochissimi In questo caso ha fatto pochissimi video 4 video Tutti e 4 un pochino diversi Uno dall'altro Comunque anche a lui Un salutone E passate ad iscrivervi al suo canale Andiamo avanti da Tonix01 Tonix01 fa Pokemon Go FIFA Clash Royale Clash of Clans Quindi anche lui varia moltissimo Quindi un salutone Tonix E mi raccomando Sare ad iscrivervi anche da lui Ci stiamo avvicinando alla fine Andiamo da Invisium Lui fa Vabbè Paranormal Story E fa Call of Duty Infine Warfare Clash Royale The Witcher Fa moltissimi giochi lui Anche lui Anche lui Svaria moltissimo Su determinati giochi Fa Pochino un gioco E un altro E anche a lui Mi raccomando passateci di iscrivervi al suo canale Un saluto da Invisium Poi ragazzi Andiamo avanti Nella parte finale di questo video Ci stiamo ormai giungendo alla fine Voglio sponsorizzare I miei tre Ragazzi che fanno parte della mia crew Quindi uno X Anto Zera Gaming TM Si è giunto appunto da poco E fa svariati video Fa soprattutto intro Quindi fa intro Fa Clash Royale Quindi mi raccomando Sare al suo canale E andatevi ad iscrivervi Mi raccomando Un salutone Anto Poi Andiamo avanti Perché avanti c'è Destiny Destiny ragazzi Anche lei fa svariati video Soprattutto vlog Adesso l'ultimo video che ha fatto È appunto la bocca passa challenge Vi consiglio di non perderla Ragazzi Quindi andatela a vedere Mi raccomando Mi raccomando ragazzi E dopodichè abbiamo Martix Anche Martix È un mio amico Vabbè avete visto anche Moltissimi video insieme a lui E L'ultimo video che ho fatto È appunto la Bubble Socher Lo speciale 100 iscritti Quindi auguroni Martix Per questo Grandissimo obiettivo Che poi sarà solo L'inizio Quasi sicuramente E poi anche lui Fa svariati video Fa vlog Svaria Su moltissimi altri giochi Quindi mi raccomando Passate ed iscrivetevi Al suo canale Io spero che comunque Questo video vi sia piaciuto Come sempre Tanti bevoli in su Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Passate il link Tutto in descrizione Faccia Facebook E San Gaming Se volete un nuovo video Le sponsorizzazioni Come partecipare Lo sapete Ve l'ho detto All'inizio video E mi raccomando Arriviamo almeno A 25 like E vi porto Un altro episodio Sulle sponsorizzazioni Noi ci vediamo Con il prossimo video E Bella rega Ciao